Io ho deciso di ricantare alcuni brani perché ho avuto il tempo di maturarli, perché non è così scontato entrare in studio, mettersi davanti al microfono e tirare fuori una canzone che comunque resterà per sempre. A me le cose che restano per sempre a volte mi mettono anche d'ansia, un po' di paura, quindi ho cercato di far restare per sempre la parte migliore di me, perché credo di aver messo in questo disco, spero che arrivi questo, la parte migliore di me, la parte che ho accettato, la parte che ho perdonato, la parte che prima forse non conoscevo benissimo e quindi oggi sono qui insieme al mio nuovo disco. Grazie